Sono passati ormai due anni dal disastroso terremoto che ha messo in ginocchio l'isola di Haiti. Il paese dei Caraibi, già in una difficile situazione di instabilità politico-sociale, nel 2004 era stato colpito da un uragano. Poi, il 12 gennaio del 2010, il tragico terremoto e a seguire l'epidemia di colera. Ma grazie alla generosità di tanti, anche nell'anno appena trascorso, gli aiuti della Caritas non sono mancati. Da Verona in totale sono arrivati 650 mila euro di donazioni, di cui 223 mila circa a un anno dal terremoto, per i progetti di seconda fase. Noi continuiamo anche adesso a ricevere contributi e poiché siamo anche collegati col Triveneto, ci regoliamo un po' sulla base di progettualità che condividiamo e che poi portiamo avanti. Comunque, la cosa che stupisce sempre è che quando ci sono emergenze di ogni tipo, i veronesi sono sempre presenti e ringrazio per questo. La gestione degli aiuti non è stata facile e la ricostruzione è lenta, ma le donazioni continuano e dopo i programmi di prima emergenza, la Caritas veronese, con le altre Caritas del Triveneto, vi sta contribuendo, con attenzione particolare a due ambiti. Il ripristino del centro giovanile, gestito dai salesiani a Sité du Soleil, uno dei comuni più difficili di Porto Prens, la capitale, e inoltre il sostegno e monitoraggio delle condizioni socio-economiche delle famiglie del campo sfollati di Torlan Carrefour, una delle località vicine all'epicentro del terremoto e nell'area di diffusione dell'epidemia, progetti per cui vale la pena continuare a essere generosi. In una prima fase, a livello di Ocesano di Verona, sono stati raccolti circa 450 mila euro, che sono stati destinati nell'immediatezza, quindi tutto il sistema che si è attivato a livello internazionale degli aiuti. Successivamente i fondi raccolti sono stati destinati invece ad un progetto in partenariato con il VIS e i salesiani Don Bosco, che sono la realtà più strutturata ad Haiti e più vicina alle persone, proprio per sviluppare attività sia di ricostruzione dei centri giovanili che i salesiani avevano in loco, ma anche tutta una serie di interventi di solidarietà economica alle famiglie in difficoltà nei campi, nei campi sfollati, con l'obiettivo appunto di far nascere anche piccole attività generatrici di reddito. Diciamo che l'obiettivo è mantenere la vicinanza, non dimenticare queste popolazioni, quindi è importante che anche oggi siamo qui a parlarne ancora.